Oggi faccio un video risposta ad un commento fatto in uno dei miei video da DAVGDAV-G che dice il seguente Ciao, grazie per i tuoi video, molto utili, grazie a te Una domanda, per il ruolo di receptionist, addetto alla reception è abbastanza avere solo un ottimo inglese qui a Berlino? Il mio tedesco è di livello A1, quindi abbastanza basico Dunque, prima di rispondere alla domanda è bene aprire una parentesi e parlare del tema livello di tedesco ed inglese, quale livello avere se ci si vuole trasferire in Germania E questo dipende da molti fattori Se volete trasferirvi in una grande città, il tipo di lavoro che volete fare Dunque, se decidete di trasferirvi in città come Berlino, Francoforte un ottimo livello di inglese ed in generale un basico livello di tedesco vi permetterà comunque sia di vivere bene e di lavorare perché in queste due metropoli, perché includiamo anche Monaco, Hamburgo, insomma tutte le grandi metropoli c'è una grande comunità di stranieri che solitamente tutti parlano inglese Poi, chiaramente dipende dal lavoro che volete fare In questo caso, rispondo a Dav G Se vuoi lavorare come receptionist, addetto alla reception io ti consiglierei di avere un tedesco di migliorare il tuo tedesco perché a uno forse potrebbe essere non sufficiente poi dipende dal datore di lavoro ma comunque sia considera che tu avrai a che fare con rispondere ad email parlare con clienti direttamente che vengono da tutte le parti della Germania anche da tutte le parti del mondo, per carità ma comunque sia se stai a Berlino, Francoforte, Monaco se stai nelle grandi città anche i tedeschi delle cittadine visitano le metropoli tedesche dunque il tedesco un tedesco di B1, B2 è, secondo la mia opinione è da avere, ok? dunque un A1 potrebbe essere un po' poco chiaramente devi avere il livello di inglese ottimo anche poi, se vuoi lavorare per esempio in gastronomia come cameriere, come barista, barman allora forse un A1 potrebbe bastarti anche se ancora un po' poco però in questo caso basta che vi imparate le solite frasi che si usano per un cameriere cosa volete ordinare volete pagare separati o insieme e via dicendo dunque se vi imparate certe tipologie di frasi ve la potete cavare nel campo della gastronomia ma se vuoi fare il receptionist forse ti serve come ho detto un livello più alto di tedesco considerate che qui comunque sia in Germania ci sono le Volkshochschule che costano molto poco per imparare il tedesco so che non è una lingua molto facile da imparare dunque richiederà tempo però per esempio potreste lavorare nel campo della gastronomia all'inizio migliorate il vostro tedesco di modo che dopo avrete più porte aperte se volete lavorare qui nelle grandi città soprattutto Berlino e Francoforte qui a Berlino ci sono molte start up dove parlano solo inglese anche direi anche bar, pubs sono andato molte volte in pubs o bar qui a Berlino e ho salutato in tedesco mi hanno risposto subito in inglese per farti capire a che livelli siamo qui con la lingua chiaramente serve per la burocrazia la burocrazia ovunque andate è tutta in tedesco nelle grandi città ho visto che fanno qualche sforzo a scrivere anche le cose in inglese ma il tedesco per la burocrazia è essenziale non vi preoccupate ci sono tanti strumenti c'è Google Translator comunque sia anche a livello burocratico ho visto che i tedeschi non è che capiscano 100% ciò che le autorità scrivono perché è una lingua abbastanza difficile ha molte regole, i casi e via dicendo bene, spero di esservi stati utili e ci vediamo al prossimo video mettete un like al video se vi è piaciuto un dislike se non vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ciao da Berlino grazie a tutti